Ciao a tutti, oggi prepareremo il budino di kaki senza zucchero e latte. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più il tempo di rassodamento in frigo. Gli ingredienti sono polpa di kaki maturi e cacao amaro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la polpa di kaki e il cacao. E' da azionare il bimbi per 1 minuto e 30 secondi a velocità 4. Versare in stampini per budini. Riporre in frigo per almeno 12 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i budini dal frigo, sformare e servire. Budino di kaki senza zucchero e latte. Grazie e alla prossima ricetta! A presto! 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 Grazie a tutti.